Professor Boldrin, la convince questo nuovo governo? Beh, no, ma questo è chiaro. Non mi sembra molto diverso dal precedente. L'abbiamo detto con altri amici fin dall'inizio. Mi sembra fondamentalmente seguire le stesse teorie economiche, e cioè che non c'è nessun problema strutturale, basta spendere, espandere e regalare soldi a destra e a manca ai propri gruppi di elettori per uscire dai problemi che abbiamo. Ha preso un atteggiamento più saggio, più furbo, sia con l'Unione Europea, che invece di insultarla continuamente cerca almeno di vedere se si ricava qualcosa e vende meno la favola, secondo cui i migranti sono la causa di tutti i nostri mali. Però, dall'altra parte, nemmeno fa delle cose serie per risolvere i problemi, i drammi umani che ne vengono. Quindi mi sembra coerente con quello che purtroppo l'80% degli italiani pensano, sono stati indotti a pensare, e cioè che non ci sia nulla di radicale da cambiare nella maniera in cui viviamo e lavoriamo, ma che sia solo una questione di fare un po' più di debito pubblico e ovviamente per noi, per ognuno di noi e non per gli altri. Il tema dell'evasione fiscale è però un tema molto sentito in Italia e questo governo si propone di volerlo combattere a tutti i livelli. Secondo lei è giusta la strada che è stata intrapresa su questo argomento? Guarda, io ho 63 anni passati, ascolto, mi interesso di questioni politiche da una cinquantina, perché sono cresciuto presto. Credo siano esattamente 50 anni quasi che sento parlare. Senz'altro dagli anni della riforma a Visantini, che avvenne poco dopo. Questo governo ripete le solite cose. L'evasione fiscale in Italia è un problema, senza dubbio, ed è un problema per due ragioni. Uno, perché le tasse sono troppo alte su certi settori. E siccome sono troppo alte, perché si spende troppo. La prima maniera per cercare di affrontare seriamente il problema dell'evasione fiscale è ridurre la spesa, ridurre le imposte e semplificarle, che renderebbe molto più semplice il controllo. Il secondo è che l'evasione fiscale, e qui c'è una letteratura gigantesca oltre che dati, è fondamentalmente il prodotto di due cose. Uno, un'amministrazione fiscale che non funziona, è una cultura diffusa della, chiamiamola, omertà. Ma dall'altro, la dimensione dell'impresa. Perché che se ne dica, che che raccontino balle molti ordini di informazione. Il grosso dell'evasione fiscale è concentrato nella microimpresa. Ma non perché i microimprenditori siano cattivi, eh. Sono esattamente come tutti gli altri, chiunque può minimizza le sue tasse. È molto più difficile evadere le tasse se sei grande, se devi coinvolgere molte persone nei trucchi, se devi falsificare tante fatture, devi usare altri metodi, magari di illusione, ma legali, legali, che è una cosa diversa dall'evasione. Mentre se sei piccolo è più facile evadere. Punto. Quindi il problema dell'evasione fiscale in Italia si, non dico risolverà, ma ci comincerà ad affrontare. Quando permetteremo allo sviluppo tecnologico e alle forze di mercato di far crescere la dimensione media dell'impresa italiana. Allora vedremo che, come in altri paesi dove la dimensione media è maggiore, la percentuale di evasione sul prodotto interno loro diminuirà. I metodi polizieschi di un tipo o dell'altro non hanno mai funzionato e, guarda, credo che non funzioneranno. Il problema della crescita economica è un problema gravissimo e che da sempre si ripresenta all'inaugurazione di ogni nuova stagione politica in Italia. Come si può intervenire su questo problema che, insomma, è determinante? La dottrina del precedente governo era quella di fare nuovo debito per rilanciare, ad esempio, gli investimenti. Secondo lei è una strada percorribile, giusta? Ma guarda, anche la dottrina di questo, la dottrina di tutti, hanno parlato di fare investimenti, non si capisce tra l'altro quali, perché l'unico che sembra aver proclamato un pubblico investimento in questi anni è stato Berlusconi con il suo mitico ponte sullo stretto. Dopodiché hanno fatto tutti tanto debito, peccato che non hanno fatto gli investimenti. Allora, il problema della crescita italiana, come alcuni di noi, pochi, minoranza, odiati, tutto quello che vuoi, però credo che proprio i fatti continuino a darci ragioni, dura da 30-35 anni e dà a che fare, ripeto, per la milionesima, scusami, se faccio la faccia di uno stanco di ripeterlo, perché davvero quando lo ripeti per la cinquecentesima volta non ha nulla a che fare con la spesa pubblica, non ha nulla a che fare col far debito, ha a che fare con la scuola e l'università che non funzionano, certo, sono mal pagati, però bisognerebbe prima aggiustare la maniera in cui li si paga e poi pagarli di più tagliando da qualche altra parte. Ha a che fare con le pensioni che sono troppo alte e drenano troppe risorse dai redditi da lavoro e quindi fanno scappare le imprese produttive, le quali non vogliono venire qui, spendere 100 per un lavoratore qualificato, il lavoratore qualificato si mette in tasca 35, perché quelle imprese spendono 100 e il lavoratore riceve 35 e dicono sai cosa, andiamo da un'altra parte, io spendo sempre 100 ma tu ti metti in tasca 60 e sei molto più contento e lavori di più con me. È semplicissimo, è così, tutto l'investimento, le imprese qualificate scappano laddove la pressione per i contributi sociali e per le tasse non è così alta, occorre mettere mano, ed è probabilmente a costo zero, ma richiede battaglia politica al sistema della giustizia, ai codici di procedura, sia penale che civile, all'organizzazione dei tribunali, che sono un inferno e rendono impossibile l'attività economica moderna, perché non c'è certezza del diritto, questo occorre fare. E' una serie di altre cose che si vanno ripetendo da secoli e che non c'è tempo qua a stare a dibattere. La spesa pubblica e ulteriori debiti, ulteriori regalie non servono a nulla, anzi fanno danno perché aumentano il debito e anche se adesso i tassi sono bassi, il giorno in cui si alzeranno un po' dovremo pagare più tasse per pagare gli interessi sul debito. Un altro aspetto della dottrina economica imperante, soprattutto in certi economisti in questo periodo, è che l'Unione Europea sia un vincolo, un freno alla crescita dell'Italia. La Germania in particolare, che si sarebbe avvantaggiata dall'entrata nell'euro, dalla nostra entrata nell'euro. Secondo lei l'Europa, l'Unione Europea, è una risorsa o veramente, come viene dichiarato da più parti, un vincolo e un freno? Allora, quelli che tu chiami economisti, o che lei chiama economisti, visto che siamo in un'intervista, diamoci del lei, tali non sono, sono francamente dei cialtroni, che purtroppo ha una certa parte politica o due certe parti politiche, cioè sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, hanno spedito nei parlamenti a vivere a sbaffo, ma raccontando bugie. Questa cosa dell'Europa che è un vincolo è una bugia, vi viene solo una parola volgare, non c'è alcuna relazione, nessuna l'ha dimostrata, dimostrata, è una favola che viene raccontata e le persone purtroppo più deboli, più fragili, amano sentirsi ripetere, perché questo gli fa pensare che non dipende da loro, non dipende da chi voti, non dipende da come lavori, ma dipende dai cattivi tedeschi. Poi succede che scopri che l'unico pezzo di economia italiana che tira e cresce e tiene su tutto il resto è quel pezzo di manifatturiero che esporta nel centro-nord, che è molto legato e molto dipendente dall'abilità tedesca di fare prodotti finiti, particolarmente nelle automobili, ma non solo, e venderli in giro per il mondo, e qui noi contribuiamo. Bene, quindi siamo parte della catena. Quando a loro viene la tosse, a noi viene la broncopolmonite. La Germania ha approfittato dell'euro nella stessa maniera che ne ha approfittato la Spagna, la Francia, il Belgio, e anche l'Italia, l'Italia ha approfittato dell'euro, a modo suo purtroppo, ma la mente ne ha approfittato come? Quando lo spread reale fra i tassi di interesse sul debito pubblico italiano e quello del resto dei paesi europei, della Germania in particolare, è calato di circa 300-350 punti base veri dal 1996 in poi, permettendoci di risparmiare nell'arco ormai più di vent'anni che sono passati, cifre enormi che non riescono neanche più a quantificare, ma nell'ordine di probabilmente 500-600 miliardi cumulati in questi vent'anni di interessi. E noi quei risparmi invece di fare come le formiche intelligenti e dire ok, sto risparmiando, cerchiamo di non aumentare la spesa, ce li siamo bevuti, o mangiati, o scialati, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato quello che noi abbiamo guadagnato dall'euro, ma non solo, abbiamo guadagnato anche un mercato per le nostre merci, l'Italia esporta alla faccia delle balle che questi centroni raccontano, eccetera, eccetera. Il problema è tutto interno, perché ciò che non funziona nell'economia italiana non è quel pezzo residuo di economia italiana che esporta, quella va bene. Quello che non funziona è la parte interna, i servizi, il sistema pubblico, eccetera, e il sistema paese che non attrae più imprese produttive. Noi siamo in una situazione in cui ne sono scappate un tot di nostre, ne abbiamo ammazzate un altro tot, quelle che rimangono resistono, ma invece di farle crescere attraendone altre da fuori, facciamo fuggire a causa dei nostri problemi interni, quelli che me la incavo prima, addirittura imprese italiane, tantissimi ragazzi italiani, questa famosa fuga che chiamano dei cervelli, che sembra che vadano via solo professori, non è vero, non vanno via professori, vanno via ragazzi e ragazze molto capaci, una buona fetta dei quali vanno all'estero a fare gli imprenditori. Io ne conosco persino in Polonia, in Giappone, in Cina, che fanno gli imprenditori italiani. E quando l'incontro, viaggiando, mi dicono, ma guarda, è banale Michele, ce ne siamo andati, perché era impossibile fare questo, fare quello, fare quell'altro, le tasse, la burocrazia, mio nonno, nessuno mi credeva, non ero raccomandato, il direttore di banca, siccome ero il figlio di nessuno, il credito non me lo faceva, mentre aveva buttato via 5 milioni, nella solita speculazione di inizia, poi fallita. Questa è la realtà del Paese. Quindi noi esportiamo decine di migliaia di ragazzi e ragazze capaci, che vanno a fare gli imprenditori all'estero. In passato è stato uno dei protagonisti del tentativo di rilanciare, di riproporre un partito liberale in Italia. Come mai l'Italia è uno dei pochi Paesi in Occidente che non riesce a articolare una proposta, un'offerta politica di carattere liberale? Allora, ti rispondo correggendoti, scusami, nel senso che io e altri, senz'altro, siamo stati gli iniziatori, in particolare con Sandro Brusco e Andrea Moro, di questa idea di fermare il declino, a cui poi sono aggiunti altri, fra cui Giannino, Stagnaro e altri, e abbiamo creato questa esperienza politica. Non mi vale l'epiteto liberale, per la semplice ragione che davvero, nel modo più totale, io non mi considero tale. Il fatto che vi siano alcuni dei principi delle teorie liberali, che coincidono con quello che a me sembra giusto, eppure ho fatto pragmatico. Io quello che faccio, cioè i miei principi morali, di giustizia sociale, alcuni di quali sono liberali, altri no, tra l'altro, e cerco di utilizzare gli strumenti che l'analisi economica, e non solo economica, sociologica, scientifica, statistica, mi danno per permettermi di capire come fare le cose nel mondo. Le proposte di fermare il declino, e le proposte fatte poi successivamente nell'attività editoriale, a questo si ispira, è un fondamentale sano pragmatismo. Non mi piacciono molto le bugie, e non mi piace il tatticismo, siccome non ho mai avuto particolari aspirazioni di essere io il capo del partito politico, perché non sono un tipo adatto a farlo, forse sono adatto a produrre idee, ma non a fare il capo della politica, pacchi sulle spalle, io tendo a dare proposte molto precise, anche perché sono convinto che mentre è vero che in certe situazioni, quando la struttura di un paese, quando le istituzioni sono adeguate, si può mediare, quando c'è proprio un problema strutturale, come nel caso italiano, mediare non è una buona idea. Cioè la scuola italiana va rifatta da cima a fondo, è inutile fare riformette, riformette mediate, ne abbiamo fatte da 50 anni, dal 68. Il risultato è tremendo, abbiamo costruito una roba che è ancora forse peggio di quella che c'era prima. Bisogna avere delle volte la capacità di non mediare, quindi questo è quello che io faccio. Perché non c'è un partito, tu lo chiami di ispirazione liberale, beh c'era, quello di ispirazione liberale c'era, anzi ce ne erano due, si chiamavano PLI e PRI, non mi sono mai piaciuti particolarmente. non mi hanno neanche mai infastidito particolarmente, però non mi facevano, non ne ho particolare nostalgia. Io direi, perché non c'è un partito in Italia che raccolga quelle fette di ceti sociali produttivi avanzati, che lavorano, chi nella maggioranza nel privato, ma anche nel pubblico, penso a parte della docenza universitaria, che sono pubblici, che sono parte degli insegnanti, e che ha in mente di vivere un'Italia dinamica, ottimista, che accetta la realtà dei fatti, che si assume la responsabilità. La risposta vera è lunga, quindi non la facciamo, ha a che fare con la storia d'Italia, con come si è costruito il paese. La riposta breve è che per qualche ragione la nostra elite borghesi sono purtroppo poco borghesi, molto aristocratiche, e in un certo senso non hanno mai avuto fiducia in se stesse, non hanno mai voluto proporsi in prima persona come soggetti politici. Hanno sempre delegato ad altri, dai Savoia, il Partito Nazionale Fascista, la Chiesa Cattolica, e a un certo punto persino a una certa vago socialcomunismo, la delega politica, dicendo, vabbè, poi tanto vi compro, facciamo affari. La mancanza di questo, cioè il fatto che, chiamiamoli gruppi sociali, classi produttive, chiamali come vuoi tu, non abbia mai voluto farsi il loro Stato in prima persona, ma l'abbia sempre delegato a gruppi ideologici, pensando che poi se li sarebbero comprati, secondo me è la ragione storica fondamentale, però la storia è lunga, l'intervista è corta. Ultimissima domanda, siamo in Sardegna, la Sardegna purtroppo da molto tempo è soggetta a una deindustrializzazione, dopo che negli anni 70 furono introdotti i famosi distretti industriali nel sud Italia, al centro d'Italia, gestiti a livello pubblico, quale può essere la ricetta per risolvere l'economia di un'isola come la Sardegna, che purtroppo ha degli importanti fattori di diseconomia, ha anche una mentalità che nel tempo è stata in qualche modo indirizzata a un assistenzialismo che non ha favorito certamente la libera intrapresa. ma guarda, sì, il problema fondamentale mi pare il secondo che hai detto, che c'erano anche negli anni 60 e c'erano anche negli anni 70. L'episodio dei grandi impianti, le cattedrali nei deserti o nelle coste del sud Italia fu l'inizio della mancanza di comprensione della borghesia italiana, dell'elite politica italiana che il processo di sviluppo, di catching up, di recupero, post-seconda guerra mondiale che aveva prodotto il miracolo economico era finito e che il modello che loro avevano in mente non funzionava. In tutti quegli anni si fecero appunto gli impianti chimici qua in altre zone del sud, alcuni impianti siderurgici, qualche fabbrica manifatturiera tipo pomigliano d'arco che da allora che erano già fuori mercato quando vennero fatte praticamente, cioè arrivarono, fossero state fatte vent'anni prima erano in mercato, arrivarono quando quel tipo di roba stava diventando molto dura da sostenere sul piano economico in un paese come l'Italia. e poi comunque erano anche diciamo così fuori luogo nel senso che non c'era attorno un ambiente imprenditoriale che le accompagnasse e che potessero fomentare. Detto questo e con tutti gli straci che ha avuto la Sardegna in realtà non si è mai deindustrializzata per la semplice ragione che non si è mai industrializzata. È una regione che è passata dall'agricoltura e pastorizia quasi generalizzata ai servizi con questo piccolo saltino. C'è un po' di industria in senso stretto ma non è grande cosa. a me pare che il problema fondamentale sia lo dicevo anche ieri a Sassari da un lato riconoscere che la Sardegna è molto simile non c'è nulla di particolarmente sardo dal punto di vista economico sociale dal punto di vista culturale alimentare quello che vuoi tu di sicuro ma dal punto di vista economico sociale la Sardegna sotto qualsiasi indicatore assomiglia moltissimo a qualsiasi altra ragione del centro-sud Italia sta lì nel mezzo i tabruzzi sono più piccoli non c'erano il mare tutto attorno c'erano solo da un lato ma se tu guardi non è quello credo che il problema vero sia quello che tu hai detto c'è una cultura diffusa francamente non si offendano i Sardi ma in buona pace è stata quella dominante perché tra l'altro molte delle persone che io conosco qui non ce l'hanno anzi è un atteggiamento opposto c'è un atteggiamento ottimista di sforzo ma la cultura dominante sì è quella del lamento e dell'assistenzialismo del lamento soprattutto il continente noi siamo come se fosse colpa della politica che la geografia ha fatto della Sardegna un'isola c'è la storia geologica potrebbe essere anche un punto di forza se sfruttare un punto di forza che comunque ormai è diventato irrilevante che si lotti per la liberalizzazione di trasporti basta ste robe di tirreni all'Italia i sussidi cioè io sono venuto con EasyJet me ne vado con EasyJet ho pagato 40 euro a venire 40 euro a andarmene e non ho avuto particolari problemi di orario venivo non da Milano da Roma venivo da Venezia quindi non è che sia così complicato e devo dire che sai qual è l'altro problema che bisogna anche accettare io credo che parte dello sviluppo economico lo fanno gli esseri umani e il mondo è pieno di sardi che hanno deciso di essere parte dello sviluppo economico a me interessa che le persone vivano bene se poi territorialmente lo fanno a Firenze o a Bologna o a Marsiglia piuttosto che a Arbatax questo signore ha scelto di far così io sono nato a Padova però la mia vita poi l'ho spesa altrove quindi c'è una fetta di intelligenza sarda che va in giro per il mondo non c'è niente di obbligatorio forse chi vuole rimanere qui chi vuole rimanere qui dovrebbe porsi il problema di che tipo di imprenditoria possa funzionare qui e questo mi sembra che manchi adesso questo aprirebbe un discorso lunghissimo l'abbiamo fatto ieri a Sassari mi pare che chi vuole rimanere qui invece di pretendere che Cagliari diventi Milano o addirittura Silicon Valley dovrebbe dirsi che tipo di imprenditoria può crescere a Cagliari può crescere in Olgiata può crescere nel Sassarese come possiamo utilizzare le risorse naturali che abbiamo per un certo tipo di turismo credo che occorrerebbe sì davvero un cambio di mentalità grazie a tutti